Il mercato della Juve si muove sotto traccia, ma Giuntoli ha già in serbo un colpo importantissimo per la formazione bianconera. Guardate tutto il video per capire di chi stiamo parlando. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juventus sta per compiere un colpo che potrebbe scuotere il mercato calcistico. Un giovane talento danese, di origini nigeriane, è sulla lista dei desideri della vecchia signora, pronta a mettere sul piatto una cifra considerevole per assicurarsi le sue prestazioni. Con una valutazione che ha già raggiunto la cifra di 20 milioni di euro, questo talento è diventato un obiettivo ambito non solo dalla Juventus, ma anche da altri top club europei. La sua crescita esponenziale, culminata in prestazioni eccezionali con la maglia del Lecce. Ha attirato l'attenzione di squadre di Liga e Premier League, oltre che del Milan in Italia. Stiamo parlando di Patrick Dorgu. Giuntoli, il direttore sportivo bianconero è deciso a portare Dorgu a Torino, conscio del suo potenziale e della sua abilità sulla fascia sinistra. Il giovane, classe 2004, è già stato seguito da vicino dalla Juventus, che ha avviato le trattative, per assicurarsi il suo talento. Su questo colpo di mercato, vogliamo sapere il tuo parere. Pensi sia la pedina giusta per rimpiazzare Alexandro? Scrivilo nei commenti sotto al video. Nonostante la concorrenza agguerrita, la Juventus sembra pronta a fare di tutto per assicurarsi Dorgu, dimostrando ancora una volta la sua determinazione nel mercato dei giovani talenti. Inoltre, il profilo poliedrico di Dorgu, che può giocare sia a destra che a sinistra, lo rende un'opzione preziosa per il futuro della squadra. Oltre alle offerte provenienti dall'Italia, ci sono anche segnali di interesse da parte di club spagnoli e inglesi, tra cui l'Atletico Madrid, il Liverpool e il Tottenham. La Juventus, tuttavia, sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Il sogno di Dorgu è quello di giocare al più alto livello e di rappresentare la Danimarca in competizioni internazionali. Nonostante le sfide finanziarie legate alle clausole di rivendita e al coinvolgimento del Nordsjelland, sembra che la Juve sia pronta a fare di tutto per portare il giovane talento a Torino. Nei prossimi giorni si saprà di più sul futuro di Dorgu, ma per ora sembra che la Juventus sia in vantaggio nella corsa per il suo ingaggio. Un colpo che potrebbe rivoluzionare il mercato e portare nuova linfa alla squadra bianconera. Ciao e alla prossima notizia!